Senatore, la manovra passa qui al Senato, c'è stato il voto di fiducia da poco. Che cosa porta a casa il Partito Democratico? Qual è il bilancio per il nostro partito? Innanzitutto cosa porta a casa l'Italia? Nel senso che il decreto, anche se con molti sacrifici, mette in sicurezza gli obiettivi di finanza pubblica e questo speriamo che sia un elemento che agevola poi la fase del rilancio e della ripresa economica e del sostegno allo sviluppo. In particolare, credo che ci siano da apprezzare alcune novità, soprattutto l'impegno sulla lotta dell'evasione fiscale. C'è qualche timido, ancora insufficiente, ma intervento che rimodella il carico e la pressione fiscale spostandolo sulle rendite e soprattutto sul patrimonio immobiliare a vantaggio degli sgravi che si possono determinare a sostegno dell'occupazione femminile, dell'occupazione giovanile e per rilanciare l'occupazione per le imprese attraverso lo sgravio del viva sul costo del lavoro. Il senatore Latorre durante le dichiarazioni di voto ha detto che il PD vota la fiducia, ma adesso servono crescita ed equità. Invece il premier Monti, intervenendo oggi in aula, ha detto che la fase 2, quella per la crescita, è già iniziata. Preoccupa questo passaggio del discorso di Monti? Io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Certo, bisogna fare di più. Bisogna sbrocare il patto di stabilità per i nienti vocali, bisogna fare liberalizzazioni vere, profonde, a partire da quelle nel campo dell'energia, bisogna investire sulla green economy e sull'economia verde, bisogna promuovere riforme anche nel mercato del lavoro che guardino soprattutto a tutelare i soggetti deboli e che promuovano opportunità e occasioni di ampliamento delle opportunità occupazionali.